Buongiorno, mi chiamo Dal Fiume Daniele, ho 54 anni e vengo dalla provincia di Rovigo. Ho contattato il dottor Latorre circa un anno fa per problemi di acufene, vertigine e fullness, cioè sensazione di orecchio tappato. Ora, dopo un anno, posso dire che le vertigini e il fullness sono spariti, ma quelli sono spariti subito dopo aver iniziato la cura, dopo circa una settimana. Per quanto riguarda invece l'acufene, posso dire che ci sono dei giorni nei quali l'acufene non lo sento per nulla, cioè mi sembra di non averlo mai avuto. Altri giorni invece che sento l'acufene, ma nonostante questo li riesco a sopportare. Quindi, in sostanza, posso dire che sto bene, anche se per il momento la cura la devo continuare. Grazie a tutti, buongiorno. Grazie a tutti.